Bellezze naturalistiche e tesori agroalimentari dal patrimonio inestimabile. Nel pomeriggio del 30 ottobre, la Camera dei Deputati, il Parco Nazionale Appennino Lucani-Valdagri-Lago-Negrese ha presentato la guida del parco redatta da Repubblica, che racconta quanto di bello e di attrattivo fornisce il territorio. A illustrare la guida del parco, oltre a Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica, il commissario straordinario del Parco Nazionale Appennino-Lucani-Valdagri-Lago-Negrese, Antonio Tisci, il quale si è detto particolarmente orgoglioso per l'opportunità colta in una cornice così prestigiosa. Con questa guida e con questa importante presentazione, il parco si presenta in tutta la sua bellezza all'Italia e al mondo e lo fa per spiegare a tutti quanto di affascinante sotto tutti i punti di vista ci sia nel suo territorio. Ha esordito Tisci che poi ha aggiunto Il mio ringraziamento personale va al Presidente della Regione, Vito Bardi, al Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, oltre che agli onorevoli Cerretto, Mattia e Rotelli, che hanno voluto dare la propria disponibilità a presenziare all'iniziativa che corona il grande lavoro messo in campo per rilanciare e far conoscere il nostro territorio. Ha poi concluso il commissario. Il prossimo obiettivo ora sarà diffondere la guida partendo dalle scuole affinché il parco diventi un motore di sviluppo e di attrazione.